finalmente siamo arrivati alla camera che roba qui abbiamo piccolo angolo cottura due notti ragazzi due notti però molto 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 carina anche il televisore si vede qualcosa ebbè allora siamo in pieno centro quello è lo stadio qua è blocco tirana tramonto bene ci riposiamo ciao guarda che carino ok ciao ragazzi adesso mi rilasso allora adesso siamo sempre tirana allora non è tirana by night perché sono le sette e mezzo di sera quindi però per farvi vedere come è illuminata quanti locali ovviamente quanto traffico praticamente la sopra c'è lo sky tower che lo stanno ristrutturando i locali sono veramente veramente belli guardate che belli uno dietro l'altro ovviamente Q7 Porsche normale una città europea poi lo so che comunque ci sono i poveri anche qua ci mancherebbe io non ho mai detto il contrario quello è sempre blocco e di qua invece si va verso lo stadio si vede là dietro quella struttura rossa alta locali veramente belli con servizio qua ti ricordi regia dove ci siamo riempiti di calorie qui sono torte e cose incredibili ancora è presto eh ragazzi quindi si devono ancora aprire riempire nel senso aprire nel senso di riempire locali quindi burger house burger house bene bene e